Poi il traversone di Colombo, il controllo di Virdis, Mims è stato battuto da Pietro Paolo Virdis, Milan che è andato in vantaggio sul traversone di Colombo, traversone con il sinistro di Angelo Colombo, manca completamente l'intervento Faircloth dell'area di rigore e poi ad appoggiare con un tocco leggero, con un tocco di piatto nell'angolino. Corre il tempo, siamo giunti al ventiduesimo minuto, Milan ancora in vantaggio per 2-0 controllo, palla indietro per Virdis che è in trenare di rigore, arriva sul fondo, la finta di entrare, poi interventa per Virdis, rimedia il corner, una stretta di mano con l'avversario Frenkie Rijkaard, posizione centrale per lui anche nell'Olanda, mezzo Massaro, palla dentro invece per Virdis, ha la possibilità di calciare, in difficoltà ancora una volta Mims che devia il pallone di unità ancora per il Milan, la palla di Van Basten a cercare Virdis, un'occhiata alla porta e poi il tiro diretto